Sì, e poi permettete di fare anche un saluto al 28esimo iscritto che se non ero si è iscritto per un video in cui ho caricato qualche settimana fa, qualche giorno fa, in cui ho messo la standing ovation per Mr. Lynch a Cannes, al Festival di Valle 2017. E questo è un video che ho caricato in onore appunto alla presentazione a Cannes e in uso in contemporanea a V&B, per TwinPix Rital, il 21 maggio 2017. Tu puoi praticamente su YouTube puoi anche capire per quale video si è iscritta quella data per su. Quindi lo ringrazio, non ho un'idea di chi sia perché in questo caso non mi è apparso il nickname, in genere talvolta il nickname appare, talvolta no, questo è il caso in cui non è apparso, però lo ringrazio, ma spero anche che non solo abbia guardato quel video ma che in generale gli piacciono i miei report un po' a tutti e anche i videotuts, insomma. Sì, però lo ringrazio, insomma, io sono sempre solito ringraziare i nuovi membri quando li noto, insomma, questo è un canale, come sapete, che ha un ruolo secondario per me in questo momento, però è comunque molto importante, sotto sotto nel mio cuore spero che possa anche diventare più importante il canale principale da stile, però in questo momento comunque consiglio sempre il canale principale da stile perché è quello comunque che ha più numeri, eccetera, insomma. E però sono anche contento se allo stesso tempo si iscrive sempre piano piano qualche persona nuova a questo canale che è anche quello per cui, secondo me, ho il maggior impegno, tra l'altro ha più numeri, il canale principale da stile ha 558 video, se non erro, ha 556 contro il 447 del canale principale da stile, pensate un po' quanto tempo in più mi fa perdere, perdere, vabbè, sono anche contento. Comunque pensate che impegno, tra l'altro gestisco tutto da solo, tutti i miei canali, pensate un po' l'impegno, io praticamente sono impegnato tutta la giornata, faccio anche le 5, le 6 di mattina, se può dire faccio il capodanno ogni mattina, comunque spero sempre qualcun altro si possa iscrivere, noti questo canale, con cui appunto ci metto tutto il mio impegno possibile, sì.